E salve a tutti abici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Visto che un sacco di persone ogni volta si chiedevano ma light out a che cosa serve? Ne vale la pena averla al massimo? Blah 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 Questo è il video dove vi faccio vedere un po' Light out maxato anche se l'unica cosa che mi mancano sono le ultime 25 schede video ma costano un botto Prima di iniziare sotto in descrizione vi lascio un link per poter vedere tutti gli oggetti che vi servono per light out Sia la parte completa che vi dice proprio non so tipo wire tra che servono 40 milioni E poi se scorrete tutto sulla destra vi dice pannello per pannello che cosa vi serve per quale livello Quindi non ci fermiamo in chiacchiere e vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per il discord Il facebook, l'instagram e niente Prendete quei link e fateci qualcosa non lo dico mai oggi me ne sono ricordato Quindi niente andiamo giù e vi faccio vedere Ecco qua Allora questa è la schermata quella che inizialmente noi ci ritroviamo Addirittura possiamo mettere lucine molto soffuse oppure insomma livello 2 o livello massimo che sono quelle a neon E niente allora il mio consiglio iniziale è quello di portare il generatore a livello massimo Ci vogliono un bel po' di cose però il generatore è la cosa più importante perché senza quelle a livello 3 non potete fare poi tutte le altre cose Quindi portate il generatore a livello 3 ovviamente dovete livellare le altre cose però livellate quello che vi serve per portare il generatore a 3 e così via Allora ci sono tutti questi pannelli c'è lo shooting range C'è il cesso C'è la stash che per chi non ha l'edge of the darkness c'è la stash a livello 1 e la dovrà livellare fino al livello 4 e costa veramente tanto Però almeno c'è questa cosa che magari se ci giocate veramente veramente tanto potete avere la stessa stash Poi ci sono tantissime cose ad esempio questi con lo sfondo arancione sono delle cose diciamo in più che si possono anche non fare Però sono molto utili ad esempio il solar power ci serve per poter comunque portare la bitcoin farm al 3 e costa 15.000 euro C'è la scav case che praticamente ci sono gli scav che vanno in giro a cercarti delle cose Io le sto tostando un po' tutti Ne ho già fatti diversi e diverse volte mi hanno portato cose interessanti anche una checkpoint che vale sui 600k anche 300 adesso mi sa che sta scendendo Però c'è quello da questo è da 600 mi sembra 6.000 70.000 E c'è quello con il moonshine che il moonshine vale 250.000 E il moonshine lo si crafta da qui con il boost generator Quindi ma se io vi faccio tipo così no? Oh almeno siamo dentro con l'audio ultra forte Però praticamente c'è il moonshine Il moonshine lo si fa con l'acqua purificata e due pacchi di sugar E l'acqua purificata la facciamo con il filtro dell'acqua che ci mette un 5 ore e mezzo all'incirca E il moonshine ci mette 3 ore e mezzo E con il moonshine possiamo farci uno scambio importante che è la tick item case Moonshine, vodka e whisky C'è l'air filter unit che se noi mettiamo i filtri dell'aria ci da Praticamente ci fa livellare Ci da un boost sulle skill Quelle fisiche Ci da un 40% Quindi mettiamo noi qua i nostri filtri che io non ho Ma sostanzialmente dovrebbero starci sulle 19 o 20 ore Che si possono craftare dai lavatori Perché il lavatorio è un crafter diciamo Eccoli qui con questa roba Possiamo fare la magazine case e tante altre cose utili Come ad esempio la corrugated hose Che serve un sacco nel light out Il bleach e lo shampoo servono per uno scambio Che vi da il tv 110 che è un armor red rig C'è la workbench La workbench facciamo fare un sacco di proietti E altre cose come i capacitor Come i wire Come i pezzi di armi E così via Poi da questo lato troviamo anche la libreria Che questo invece aumenta le skill pratiche Quindi le skill pratiche sono come tipo searching e queste cose qua Ok? E poi ci da un po' più di esperienza Poi vediamo che bonus ci da anche l'intelligence center Ci da lo scav cooldown timer Quindi all'incirca 12 minuti mi sembra Ci danno più soldi con le quest Le cose ritornano prima E abbiamo meno commissioni Che è tanta roba Per chi come me comunque Usufruisce un po' Il flea market Per fare i suoi laccheggi per i soldi Poi di qua c'è la med station E la med stessa possiamo fare le medicine Quindi vabbè Qui c'è l'ifac Qui c'è l'ifac Qui c'è il salewa E qui c'è il propital Che è una siringa molto utile Che ho appena notato Che hanno cambiato anche il crafting Perché prima lo si craftava con l'acqua purificata Adesso invece lo si crafta con le pile of meds Che prima si potevano craftare le pile of meds con due car Ma adesso hanno cambiato un po' di cose Perché il gioco Adesso come adesso C'è Nikita che sta facendo costanti bilanciamenti E quindi possiamo aspettarci un sacco di cambiamenti Qua c'è la nostra nutrition unit Dove sto facendo il mio zucchero Che prima lo si prendeva facendo le pile of meds Cambiando la terapista E ora hanno cambiato Hanno fatto che servono gli allionca Il piccolo segreto che uso per prendere gli allionca È praticamente Se andiamo nella workbench Andiamo giù 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 Troviamo i wire Due power corde ci fa 8 wire Io scambio un wire per gli allionca Che praticamente l'allionca vale 20.000 Il wire vale 8.000 Quindi avete già anche un guadagno Se volete rivendere gli allionca E A meno che magari non sia cambiato qualcosa Dopo che ho caricato questo video Può essere E niente Io faccio così I wire li uso per tutto Tanto la gente te li scambia comunque Quindi questa è la roba Ora voglio Sono curioso di vederlo in modo molto soffuso Oh guardate che carino Oh Per Halloween è perfetto Comunque Da qua possiamo mettere anche Tolgo le luci e c'è la night vision Che non so se entriamo ce la da Non ce la da E E niente Poi possiamo spengere il generatore O farlo riaccendere Qua c'è la nostra bitcoin farm Che il massimo è 50 schede video Ora io non so se dicono che C'è chi dice che si usurano Io C'è Io ho degli amici che ce l'hanno al massimo Non gli si è mai usurato Quindi non so Però ci mette all'incirca 6 ore e mezzo 7 ore per fare un bitcoin con 25 schede video Mi sembra 5 ore con 50 schede video Che non è male E sono 3 bitcoin Cioè nel senso che fa un bitcoin Ogni quel tot ore E avete uno stock massimo di 3 Quindi dovete stare lì a raccoglierle C'è La domanda che tutti fanno Serve light out? Tanti dicono di no Non capisco perché Dicono di no sinceramente Sì Light out serve Perché voi andate a giro Tarkov Tante persone lo prendono come un gioco Dove te vai e ammazzi Quello non è Tarkov Che te vai E ammazzi Tarkov te vai e ammazzi Quando hai completato già tutto Hai già fatto tutte le quest Non devi fare nient'altro L'unica cosa che alla fine ti rimane È ammazzare i player Divertirti per andare a cercare i player E ammazzarli Però Tarkov È questo adesso Te hai il tuo bunker C'è chi dice Eh io vivo perché vogliono fare i figli Eh dai mi dispiace ma volete fare i figli Eh io me lo gioco come giocavo prima Light out è inutile Ci hanno messo questa cosa Che è utilissima Io qua c'ho la farm di bitcoin E non devo stare a trovarli Perché con i bitcoin ci fanno un sacco di trade E li vendi per 115 Eh magari anche 100.000 Perché l'ho detto Continuano a cambiare Però all'incirca 115 120.000 rubli l'uno Quindi io ogni giorno Ho più di 300.000 rubli Che buttali via Eh qui ho bisogno di altri soldi Questa vale 318.000 Vado su interchange Quello che io voglio fare È trovare Screwnut Queste scrisos E questo fuel tank Quindi vado su interchange Se ho trovato quello che mi interessa Non ho fatto fight Che cazzo se ne frega Ho preso quello che volevo Ho fatto una magazine case Se non mi serve La rivendo la terrapista 318.000 E sono altri soldi Ho bisogno di questo filter Filtro per Aumentare le mie skill E poi poter andare a Eh livellare Tipo la forza O altre cose Bene Cerco questa roba Lo crafto La ose Servono Bene E così via Capito Cioè Queste servono per scambiare Per delle armor Quindi avete queste cose Le trovate Le usate Light out Serve Diffidate Dalle persone Che dicono Che non serve Un cazzo Perché light out Serve veramente 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 Un sacco Questa cosa E poi C'è un'idea Veramente bella Da poter creare Cose uniche Che solo ed esclusivamente Con Nutrition Unit Potete fare Che magari Per un tottore Vi aumenta le skill Che il livello Cioè il leveling Delle skill E quindi Per due ore Per due ore Ti aumenta Percezione Vai a fare Quello che Per poter aumentare Percezione E quindi Giochi per due ore Per quello Quindi Light out Serve Punto Le persone Che dicono Che non serve Probabilmente Non Gli fa schifo Tarkov No Comunque Gli fa schifo Tarkov Però Light out Serve Punto Cioè Io Grazie a questo Sono riuscito A fare un sacco Di cose Ad esempio Questo Sono in costantemente Produzione Perché voglio La Tick Item Case Quindi gioco Per trovare le cose E fare La Tick Item Case Perché Con il Moonshine Vado nella Nutrition Unit Moonshine e acqua Faccio 10 Vod Che ne servono 17 Qui Tè E queste sigarette Ti fanno 5 Whiston Che con diverse Whiston Ci scambi Per un M1 Con lo stock Da R-Sass Con latte E zucchero Ci fate Condensed Milk Che con 60 Condensed Milk Ci prendete La Kiba 2 E la Kiba 1 La prendete Con una missione Quindi Light out Serve Punto Quindi niente Spero Di essere riuscito A colmare Le vostre lacune Su Light out Vi ricordo Che in descrizione Trovate il link Per vedere Quante cose Servono Adesso Le cose Costano anche Veramente poco Rispetto a prima Ad esempio I led x Adesso dovrebbero costare Un milione Un milione Due Per la mad station Ne serve uno E io ho spesi due milioni Quindi già è un ottimo risparmio Le flash drive Prima costavano 600 mila L'uno Adesso 100 mila Forse anche di meno Come gli intelligence Più di 200 mila Prima adesso Sui 30 Anche 40 Quindi Adesso Adesso lo potete Livellare Anche con Meno spese Come Era quando L'ho livellato Io ci ho speso Tipo 15 20 milioni Per completarlo Per fare le ultime cose Le ultime Perché costavano Veramente tanto Tipo le ose Prima venivano 230k Come hanno messo Il crafting Sono scese A 70k Massimo Mi sembra Anche 35.000 Li troviamo Al minimo Quindi Sono calate Veramente un sacco Già lo shooting range Sostanzialmente È utile Perché voi Vi mettete qua Prendete l'arma E potete capire Un po' come funziona Dalle distanze Ad esempio Là c'è il laser Così Quel video del laser Lo potevo fare Senza Andare nelle mappe Mi mettevo così Quindi vedete così Madonna quanto è forte L'auto E testate E testate com'è Il valla La miglior arma del gioco Mettete qua Tac Pa Tata 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 E quindi Vedete Ma Quindi tengo premuto alto Tengo lo spray Colpi vanno bene Un'ottima arma Da vicino Non ce n'è per nessuno E così via Quindi niente Questo è Il nostro Hideout Completamente Maxato Non voglio aprire la stash E niente Io Nuovamente Spero che questo video Vi sia stato di Aiuto E niente Ci vediamo in un prossimo video Chissà che cosa sarà E alla prossima Intanto ringrazio anche Tutti i nuovi iscritti Che stanno arrivando E nulla dai Vi lascio Perché penso sia venuto un po' lunghino Per mostrare due cose Ciao belli Grazie a tutti i nostri